Che dirvi? Che dirvi? Che dirvi? Che dirvi? Che dirvi? Che dirvi? Il titolo dice Parla per me, perché prima non ho detto alcune cose fondamentali e allora ho parto questa live Che ve le dico adesso? Chiara, Alba Fasione scrive, Chiara, tutto sommato dovresti prendere le cose con più leggerezza, ma io penso che comunque la leggerezza non faccia parte di Chiara, e vi pari? Ciao Alba, grazie, ciao Adri, ciao Klarna, è Clara, ah Clara, ok, ciao Clara Ma questo è pazzo Cosa succede? Chiara, leggi Certosino 2.0 Eh, fammelo trovare, aspetta Ah, qua, Certosino 2.0 Chiara, è vero che hanno preso Davide per la quarta stagione di Mare e Fuori Eh, allora, io non so chi ti ha detto questa cosa, perché comunque doveva essere un segreto Ma, effettivamente sì, hanno preso Davide per la quarta stagione di Mare e Fuori E interpreterà il mare, sì, esatto E com'è possibile che interpreti il mare con tutta la vastità dell'oceano? Ma com'è possibile? Ma Davide? Ma Davide è bravissimo a fare l'oceano Ma amore, sono in live, va basso al volume Io sono veramente schifata, inorridita, agghiacciata Anche questa merda del moderatore fantasma non mi fermerai né mo né mai Forse non l'hai capito Ma io comunque effettivamente penso che Davide abbia un modo di esprimersi veramente unico nel suo genere, vi pare? Ciao, mami Ciao, Succerina Succerina 2000 scrive Sì, mi ricordo Ma come cazzo scrivi, Succeri? Ma mi ricordo mio figlio All'elementari, quando faceva le recite, interpretava sempre gli alberi Che bravo, hai visto? È cresciuto Passato dagli alberi al mare Prossime interpretazioni, non ci spuglio? Oh, senti allora Amore, posso parlare anch'io per piacere? No Ok Lucy sbatteli fuori di casa, quei due bisonti luridi Questo è il nick del moderatore fantasma Giusto, giusto E mia mamma non sbatte fuori niente Perché al massimo ci sbattiamo fuori da soli Se proprio mi girano le palle, ok? Prima cosa Ma amore, posso dire una cosa? Perché questa è anche casa mia e di mio morito Perché c'è anche l'intestazione a noi Quindi state zitti se non sapete le cose, ok? Zitti, ischifosi, veramente Veramente Comunque Certosino dice Che mamma Allora, nella live della fetidona È stata detta un'altra bugia Ovvero che io avrei chiamato il parrucchiere di Elisa True Crime Per farmi parlare con Elisa True Crime Che Elisa True Crime avrebbe risposto Che Elisa True Crime non parla con quei disagiati Allora, questa è intanto la diffamazione pesantissima Anche se Elisa True Crime Avesse detto nei panni di Elisa True Crime Eventualmente Elisa True Crime passerebbe dei guai legali Perché io sicuramente non esisterei Elisa True Crime Elisa True Crime Tocana, Elisa True Crime Poi c'è il simpaticone Che non si dà pace Non si dà pace Topolino Che mi ha fatto una diffida Sulla base del niente E di questo ne risponderà sicuramente Per la diffida sulla base del niente Perché, guarda Mi devi pagare per nuova Intanto Se ce ne vuole Perché a tirare su tutta sta roba Comunque mi devi pagare per nuova E ne risponderai legalmente E ne parlerei con i miei avvocati E ne risponderai legalmente Visto che fai sentire gli audio Fai sentire anche come definivi tu Filomena Eh Una napoletana DM Una zanza Perché non le fai sentire tu quegli audio? Perché non le fai sentire tu quegli audio? Beh, effettivamente Chiara Anche se lui Usava questi termini Tu però li avallavi Perché non gli avvi detto niente Ci pare? Forse perché li ricordo pure tu? Fiti da Fatele mandare interi gli audio Interi Non tagliati Hai capito? Se posso un attimo Soltanto un attimo Prendere la parola Avrei Avrei un audio Di una mia corrispondente Che ci teneva A salutarti Posso Posso fartelo sentire Chiara? Dai però Basta che ti muovi Eh Senti Chiara Però basta i toni Eccoci il goccioline Buonasera Non mi sembra riconoscerla questa Oggi Visto che è sempre in ascolta Ma Voglio mandare un saluto Alla regina Mamma spegni Oh ma veramente Luciana però Ma dai Ma non si può così Ma dimmi te Ci amo veramente Ma semmo che lo fa apposta Farci fare queste figure di merda Ehi senti Io Avevo questo messaggio Da Da recapitarvi Perché comunque Era Da parte di una corrispondente A cui tengo moltissimo E E Non mi importa Che voi l'abbiate presa così E adesso Mi ha scritto un messaggio Che mi ha detto Se fossi stata Una corrispondente silenziosa Sarei durata Altri cento anni Ma Purtroppo Non potevo trattenermi Dall'interagire Con una persona Sensibile E dolce Come lei Basta Basta Ti ritolgo tutti i social Non è possibile Sono gente di merda Conosci Se per questo Conosco anche voi Oh che dispiacere No vabbè Io ci rinuncio Ma amore Vuoi dire qualcosa A tua mamma Cioè ma Adesso Siamo gente di merda Noi Luciana Ma dai Ma per piacere Ma non si può Ma vieni guarda Non c'è problema Mi alzo E me ne vado Buono Luciana Adesso devo fare l'offesa Perché non c'è nulla Perché non c'è nulla da essere offesa No guarda Assolutamente Anzi Se c'è qualcuno Che qui fa l'offeso Sei sempre tu Perché Mamma ma la vuoi finire Di fare queste scenate Stai offrendo Uno spettacolo Pietoso gratuito Ma senti Ma quale spettacolo gratuito Io stavo semplicemente leggendo un messaggio di una mia corrispondente Se voi la prendete così male non so che cosa dirvi Lo capisci Chiara? No amore ma è bello che vuole leggerli per forza i messaggi Vuole leggerli per forza Mamma piantala Luciana ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? Aspetta 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 che muterai Allora noi abbiamo chiarito E comunque Io ci tenevo a dire che Comunque Che Se la Luciana si comporta Anche perché anche mia mamma Io Perché comunque Le donne di Youtube sono state Scusate ragazzi Piccolo Ma stasera che cosa facciamo? Ma no scusami Luciana Che quando uno vede queste situazioni E poi esplode Comunque Hai bisogno di un comfort Comunque Hai bisogno di un comfort Hai bisogno di un comfort Volevo dire Hai bisogno di un Hai bisogno di un comfort Se vuoi sono disposto a darti due sperli Ti pare? Anche quello è un bel contatto Scusate ragazzi Devo sfogarmi un attimo Ma cosa stai dicendo Davide? Chi? Ma ho detto Davide Come chi? Mia mamma dice Credi che io non soffra Che la Chiara non mi fa più le piadine? Ma Baba Ascolta un attimo Io adesso sono in mezzo a un triangolo Anzi un quadrilatero E facciamo un cerchio che è meglio Mamma non puoi dire queste cose Tu lo sai benissimo che comunque le piadine erano comprate No ragazzi non ce la faccio Questa volta sono io che devo sfogarmi e non mi vergogno Leggi Chiara Dove Mia moglie Mia moglie scrive Mami tua figlia non è espansiva ma ci vuole bene Ma Davide Luciano non ce la faccio Ma Mi puoi Me la puoi Me la puoi Ma Ma puoi sorreggere un attimo No io Io non ti vengo a abbracciare a te Perché io sono una persona fredda Sono una persona Acida No devo solo andare a sfogarmi un attimo Via Però tua mamma mi ha conosso Mi fa piacere questo Voi no ma tua mamma si Si tramite video ho visto Che è una dolcezza unica E si effettivamente Io penso che comunque La signora Daniela sia molto dolce Sentite anche voi il concertino? Lo chiamo concertino perché sta piangendo Però tutto sommato io trovo che sia Un pianto Un pianto Bello Commovente Si Giulia scrive Signora Luciana Qualche consiglio per la diarrea nei gatti Ma guarda io solitamente Li do un po' di riso Si Effettivamente Tutto sommato io penso che Non ci sia niente di peggio Della diarrea nei gatti Perché alla fine Poveretti Che cosa vuoi mai dirgli? Sono talmente belli come bestiole E comunque Ci tenevo a dire Anche se Mia figlia dice che sono glaciale Che Per questa situazione Mi dispiace molto Per Instagram Ma effettivamente Io penso che Un giorno potrò tornare a averlo Ecco forse Penso che E tutto sommato Si siano calmati gli animi Vediamo Dona oggi al 5 5 5 5 5 4 2 Ed inizia a sostenere un Davide a distanza Grazie a tutti